Salve, buongiorno a tutti, è piacere avervi qua. Io sono Matteo Suavi, CTO di Rubabusiness e oggi vi racconto quella che è la nostra nuova soluzione dei servizi gestiti managed. Intanto che aspettiamo gli ultimi che entrano, diamo ancora qualche minuto. Vi anticipo che comunque la sessione sarà registrata per cui se doveste perdere qualcosa o avete necessità di rivedere sarà possibile scaricare e vedere di nuovo il webinar attraverso il nostro pannello piuttosto che i canali social e comunque vi arriverà tutto via mail attraverso la mail che avete utilizzato per l'iscrizione. Potete tranquillamente fare domande durante il webinar, per quanto possibile cercherò di rispondere, vediamo se durante il webinar o alla fine. In ogni caso, anche se non riuscirò a rispondere, sarà poi mia cura vedere le domande e farvi avere quelle che sono le risposte. Allora, direi che come numerica più o meno ci siamo, per cui inizierei a condividere quella che è la tematica di oggi. Condivido lo schermo, così entriamo subito nel vivo. Utilizzo per dimostrarvi, per farvi vedere quello che è l'argomento di oggi direttamente il nostro sito business.robo.it dove sostanzialmente trovate tutte le informazioni, quello che farò io oggi e andare a descrivere più nel dettaglio quelle che sono le novità del nostro servizio managed. Per cui, entrando nel menu dei servizi managed, vedete che trovate queste quattro possibilità, che sono le possibili configurazioni dei servizi sistemistici. Fino a qualche mese fa, i nostri servizi erano disponibili solo come metodologia di assistenza root piuttosto che managed, c'era solo questa distinzione. Abbiamo ampliato perché ci sembrava che le esigenze e le richieste dei nostri clienti avessero necessità leggermente diverse. Quindi siamo andati a creare un root plus che è sostanzialmente in più rispetto a quello che le esigenze del root. Noi identifichiamo come root tutti quelli che sono i server che il cliente gestisce in autonomia. Quindi per chi ha un livello sistemistico sufficiente a poter gestire in autonomia il proprio server o i propri server. Chiaramente si parla anche di infrastrutture su cloud più o meno complesse. Il root plus va nell'ottica di quei clienti che o perché non hanno tempo per fare determinate attività o perché vogliono affidarsi a noi comunque perché negli anni la partnership insomma porta anche a conoscere e a dare poter delegare certe attività. Ecco che il root plus permette comunque ai clienti di avere la gestione amministrativa del server a proprio carico di delegare a noi alcune attività ma dopo scendiamo più nel dettaglio. Lo stesso vale per il managed, il managed plus nel caso del managed siamo noi che abbiamo la gestione amministrativa del server quindi gli accessi admin piuttosto che root sono il nostro carico così come la gestione degli aggiornamenti insomma attività che poi ripeto vi descrivo dopo nel dettaglio. Quello che cambia è una differenziazione di quella che è la complessità ai servizi offerti da un managed plus. Quindi abbiamo cercato col managed di andare incontro a clienti che avevano l'esigenza di avere una piattaforma standard diciamo così una sorta di hosting ma con caratteristiche e performance evolute e su una piattaforma dedicata piuttosto che un managed plus dove andiamo a coprire esigenze più specifiche, più spinte e anche più personalizzate. Quindi scendendo nella pagina si va poi a vedere quello che è il dettaglio e ad approfondiamo poi oggi ogni singola voce. Partendo dal setup, chiaramente chi compra un server ha sempre compresa la parte del setup standard cosa vuol dire? In fase di acquisto vi è indicato che sia col commerciale o direttamente al nostro pannello vi è indicato qual è il sistema operativo e quelle che sono le caratteristiche di base che il cliente necessita come configurazione per cui si va dal non installatemi neanche il sistema operativo perché ci penso io piuttosto che mettetemi questa determinate versione del sistema Linux con anche il pannello con questa versione di database piuttosto che quell'altra e così via. Quindi quella configurazione che noi effettuiamo in fase di setup iniziale è sempre compresa. Chiaramente nel caso di Managed Plus non si parla di setup standard ma si fa una tuning con cliente cioè si parla di una soluzione più complessa e che quindi viene fatta un'analisi tecnica dettagliata si parla di infrastrutture che magari hanno bisogno di diversi layer applicativi quindi magari abbiamo un frontend o n frontend magari bilanciati, un MySQL separato, un sistema di caching che può essere un varnish piuttosto che un redis quindi viene fatta un'analisi specifica viene fatto anche un tuning specifico e quindi semplicemente per questo non si parla di setup standard perché è un setup personalizzato. Dal punto di vista dell'assistenza hardware chiaramente essendo i server a noleggio, nel caso di server fisico a noleggio, nel caso di server su cloud chiaramente la manutenzione hardware, nel caso di infrastrutture in alta affidabilità il cliente neanche si accorge, per cui noi periodicamente andiamo a cambiare quelli che sono i server dell'infrastruttura cloud ma essendo su infrastruttura bilanciata l'host viene messo in manutenzione e magari si cambia o si aggiorna la RAM, si aggiorna la CPU. Nel caso di server fisico anche in questo caso la manutenzione è sempre e comunque compresa quindi si rompe un disco, si rompe la RAM, la scheda madre dà dei problemi, la manutenzione di questi guasti è sempre compresa. Quello che non è compreso nel caso del root e root plus è un intervento a seguito di un upgrade hardware, per cui ad esempio ti chiedo di aggiungere altri due dischi, il fatto della creazione del nuovo ride è un'attività che noi possiamo sicuramente fare, però è un'opzione a pagamento, piuttosto che l'estensione di un disco o il setup di un firewall ecco il setup del firewall viene installato default ma se mi chiedi di fare una VPN o di riconfigurare quelle che sono le regole che sono all'interno del firewall, quello è un'attività a pagamento cosa che invece è compresa sia nel manager che nel manager plus. Lo stesso vale per gli interventi di network, cioè quasi se c'è un problema a livello di armadio o a livello di raggiungibilità del server che riguarda il network e chiaramente tutta attività che è a nostro carico. Scendiamo ancora nel dettaglio e andiamo a vedere la parte di networking ma applicata al server quindi all'interno dei nostri data center sono tutti protetti da attacco volumetrico per cui a prescindere da il livello scelto, la protezione anti-DOS è sempre comunque compresa, si parla di DOS volumetrico cioè i nostri sistemi intervengono a fronte di attacchi massicci anche se fosse solo su un determinato server ma non si accorgano di un, cioè non si accorgano in realtà, si accorgano ma non intervengono automaticamente nel caso in cui ci sia un attacco anche solo di un giga, un giga è un valore che per assurdo all'interno dell'infrastruttura del data center è un valore che non è quasi tracciabile per cui è comunque possibile in questo caso richiedere una mitigazione ma non scatta in automatico va fatto un intervento manuale di configurazione ad hoc andando a definire quelle che sono poi le regole da applicare. Tutti i nostri server managed vengono di default installati sia Windows che Linux con un sistema antivirus e un WAF dove il cliente attraverso il pannello può andare a definire quelle che sono le diverse modalità di funzionamento quindi sul tracciamento piuttosto che debug e anche in blocco andando a fare anche delle deroghe su quelle che sono dei falsi positivi succede delle volte che il WAF vada a ritenere delle chiamate particolari come malevole in realtà sono del tutto lecide quindi si può andare a spegnere una determinata regola all'interno del WAF così come anche il sistema anti-spam quindi i nostri sistemi centralizzati di mailing hanno di default il sistema anti-spam e poi apriamo un capitolo particolare quello delle DR le DR che in realtà più che DR si parla di XDR perché è uno strumento che permette di reagire con tutta quella che è la nostra infrastruttura su cui stiamo puntando e che nel breve periodo speriamo di riuscire a portare anche fuori da quelli che sono i nostri servizi managed chiaramente tutte le nostre infrastrutture sono protette da questo sistema e nel managed plus, nel canone è compreso questo sistema qual è la grossa differenza tra un XDR o un EDR? questi sistemi hanno la capacità di poter raccogliere i dati da tutti i sistemi quindi hanno un agente a bordo macchina che invia queste informazioni al sistema centralizzato il sistema centralizzato elabora queste informazioni e essendo dotato anche di intelligenza artificiale è in grado di auto addestrarsi e capire quelli che sono comportamenti malevoli che possono creare problematiche quindi non è come un antivirus che ad esempio interviene perché all'interno del suo database ha delle firme che va a riconoscere come malevole e quindi va a bloccare oltre a questo perché chiaramente l'EDR è fornito anche di sistema anti-malware è in grado di riconoscere anche quelli che possono essere spostamenti traversali se ad esempio riceve le sonde che all'interno di una determinata rete ci sono n segnali che vengono riconosciuti come identici e che potrebbero essere a causa di problemi ecco che va a intervenire e che va a evidenziare queste problematiche chiaramente, altro elemento non trascurabile a fianco all'EDR abbiamo anche il nostro SOC che sono sostanzialmente delle persone, dei nostri colleghi attivi H24 che hanno il nostro dashboard con il sistema di monitoraggio e quindi sono in grado di intervenire a fronte di una signalazione questo è un elemento che sicuramente in considerazione di quelli che sono gli ultimi eventi con la crescita esponenziale di quelli che sono gli attacchi verso i server possono fare la differenza non voglio dire soprattutto in ambito Windows perché in realtà stiamo avendo evidenze di problematiche che non guardano a solo il sistema operativo però è palese che nel caso del sistema Windows un attacco ransomware sia capito di più spesso diciamo così, questi sistemi sono in grado di conoscere questi tipi di attacchi e di fermarli poi il fatto che ci sia una persona H24 di fronte ad un monitor con una dashboard che accende un allarme ed è in grado di verificare e intervenire è un ulteriore elemento di sicurezza l'opzione è disponibile nel Managed Plus si può come opzione a pagamento andare a attivare anche sul Managed come dicevo stiamo lavorando per fare in modo che diventi un servizio di Aruba l'EDR da poter fornire non solo a chi ha un servizio Managed ma anche a chi ha propri server andiamo avanti gestione file di log chiaramente un servizio manager essendo noi gli amministratori andiamo a conto di quelle che sono tutte le normative in termini di gestione di log sia sistemistiche che di accessi quindi quelli che sono gli accessi piuttosto che l'HTTP, l'FTP questo è un elemento che non viene mai considerato però c'è una norma di legge che dice che entro tot ore i log devono essere spostati su un'infrastruttura mantenendo per un certo determinato di tempo e spostati in un'ulteriore infrastruttura quindi sono disponibili per un determinato periodo di tempo che può variare a seconda dei periodi e le indicazioni che arrivano può variare nel periodo ma dopo questo ulteriore tempo in cui i log vengono messi a disposizione per la consultazione dei problemi tecnici possono essere archiviate su un ulteriore sistema con accesso biometrico soprattutto a ciò che riguarda i dati di traffico telematico che nel caso di server root spesso viene trascurato come elemento però è un elemento che nel momento in cui ci dovesse essere una segnalazione di un abuso o una richiesta da parte della polizia postale non avere questi dati può essere un problema e tenete presente che a frutto di un attacco hacker la prima cosa che fa l'hacker è quella di cancellare i log cioè non lasciare prove quindi non avere un sistema che ti permette di spostare queste informazioni al di fuori in un'area protetta al di fuori del server è un elemento sicuramente che fa la differenza a livello di firewall chiaramente è possibile la configurazione sia su server root che su root plus ma sono attività che noi facciamo pagamento il motivo per cui è stato creato il root plus è quello di dare un segnale al cliente che noi ci siamo sempre comunque cioè nel caso in cui il cliente abbia bisogno basta che apri una richiesta di assistenza e noi possiamo comunque sempre intervenire chiaramente su sistemi che conosciamo e su cui siamo in grado di intervenire purtroppo non abbiamo conoscenza di tutto il mondo dell'informatica sui server manager il setup così come anche quello che è la configurazione e il mantenimento del sistema operativo e del sistema di firewall sono coperti dal canone manager quindi anche gli aggiornamenti di quelle che sono le vulnerabilità del sistema del firewall sono coperte e vi assicuro che ne esce una quasi tutti i mesi di CVE con livello grave quindi dal 7 in su i manager del manager plus montano sempre il firewall del sistema operativo che sia il firewall di piuttosto che il firewall di Windows il cliente può comunque aggiungere dei firewall che siano virtuali nel mondo del cloud piuttosto che fisici nel mondo dei server metal ma in ogni caso insomma quella configurazione e quella gestione nel caso di manager manager plus rimane compresa backup, altro elemento molto importante che spesso viene trascurato ma che spesso può anche salvare la vita chiaramente nel caso di root, root plus è sempre in gestione al cliente viene messo un ulteriore backup di sicurezza che noi chiamiamo di sicurezza sul manager plus dove è compreso nel canone che cos'è questo backup? sostanzialmente noi facciamo una copia del dump del database e la copia dei file del sito web e le mettiamo da parte sui nostri server dell'infrastruttura non si parla come nel caso di soluzioni di backup avanzate di un bare metal backup quindi qui se succede qualche cosa nel caso di backup avanzato hai anche tutte le configurazioni in sistema operativo compreso nel backup perché ti ripristino il server da zero compresi anche i contenuti nel caso del backup di sicurezza diciamo che hai hai la possibilità di recuperare un file che eventualmente c'è l'atto per errore probabilmente in modo più veloce e snello questo backup viene configurato sia nel caso di manager e nel caso di manager plus è compreso il ripristino nel caso di manager plus mentre l'opzione è che è comunque disponibile a pagamento nel caso del manager quindi se un cliente ha bisogno di un backup di due giorni prima di una determinata pagina di un determinato sito apprende un intervento lo mettiamo a disposizione quindi copiamo sul suo server il file richiesto ripeto è un'altra cosa rispetto a un backup avanzato come può essere il nostro cloud backup dove hai un bare metal hai un pannello che ti permette di definire quelli che sono le frequenze di backup così come anche il livello di full e la copertura anche in termini di retention del backup con i full e i incrementali a livello di assistenza software e manutenzione allora abbiamo introdotto anche questo è un elemento che abbiamo introdotto di recente la delega di accesso permanente che cos'è ed è disponibile chiaramente su per server root e root plus perché nel manager diciamo noi ad avere le chiave di accesso come amministratore quindi non avrebbe senso sostanzialmente dopo poi ve lo faccio vedere c'è la possibilità anzi ve lo faccio vedere subito c'è la possibilità di dare accesso a noi sistemisti con la creazione di un nostro account per accedere al server che sostanzialmente va a velocizzare quelle che possono essere le richieste di assistenza per cui tipico evento in cui il cliente ha bisogno ci scrive per favore aiutatemi il server è tutto bloccato però non mette le credenziali e quindi noi dobbiamo riscrivere al cliente ci può indicare qual è il server ci può indicare quali sono le credenziali ci può indicare firmare la delibera perché tutte le volte che viene fatto un'attività su un server di gestione del cliente va firmata una delibera che accetta il rischio del fatto che noi possiamo entrare e se c'è qualcosa che non va non si vada sempre sicuramente a risolvere il problema ok quindi con questa delibera di accesso si dà la possibilità noi sistemisti di accedere direttamente perché viene creato un nostro account ve lo faccio vedere direttamente da qua dal vostro pannello quindi se entrate nel caso di un server root come questo qui questo è un server sull'ambiente di test che ho creato io vediamo se non mi è scaduta la sessione è sicuramente è scaduta la sessione va bene ci torniamo dopo vediamo tanto che si apre per cui questa attività che prevede l'accesso di debito è obbligatoria nel caso del root plus ok è possibile chiederla nel root questo ve lo ciderà gli interventi nel caso del root plus è obbligatorio perché perché sono compresi nel canone del root plus quattro interventi all'anno che possono essere di aggiornamento del sistema operativo applicazioni patch aggiornamenti di sicurezza piuttosto che due ore per l'intervento extra quindi ho bisogno dell'estensione del disco ho bisogno che mi venga installato un certificato SSL ho bisogno di fare una verifica perché c'è un determinato sito che sta continuando a scrivere nel logo c'è un sito che sta spammando e non riesco a capire qual è il dominio quindi il canone del root plus ci permette di avere l'accesso diretto al server quindi velocizzare quelli che sono gli interventi e dà al cliente la possibilità di chiedere questi quattro interventi per aggiornamento e applicazione delle patch piuttosto che necessità sue per quelle che può essere attività sul server come dicevo prima noi possiamo comunque effettuare questo tipo di attività per i clienti che hanno la gestione root ma quelli saranno disponibili sempre a pagamento è possibile comprare dei pacchetti di assistenza con degli sconti in base alla quantità di ore che si vanno ad acquistare oppure di chiedere l'intervento estemporaneo con quella che era la nostra tariffa standard chiaramente tutte queste attività sono comprese all'interno del manager del manager plus una differenza sono il numero di richieste che possono essere effettuate all'interno dell'anno faccio un esempio il servizio manager prevede la gestione del firewall è chiaro che se tutti i giorni mi chiedi di inserire delle regole per fare accedere un determinato IP piuttosto che aprire la porta a un determinato IP per accedere a un database dopo 50 richieste anche in questo caso le opzioni diventano a pagamento poi 50 richieste non c'è una vera rigidità in questo senso però insomma è giusto differenziare anche i due servizi e visto che hanno un costo diverso dare elementi in più a chi ha un server manager plus l'installazione SSL nel caso del manager manager plus avviene in automatico quindi quando un cliente compra dal nostro servizio della internet i nostri certificati SSL e questi sui manager manager plus vengono installati automaticamente sono opzioni a pagamento che possiamo comunque fare anche sul server root e root plus le attività sistemistiche quando viene chiesto un intervento questo ad oggi è così a prescindere dal tipo di soluzione noi facciamo interventi dal lunedì del sabato dalle 8 alle 19 è possibile nel caso di alcuni interventi ad esempio se c'è la necessità di cambiare un disco o di fare un cambio un upgrade di RAM di schedulare anche in altri orari dobbiamo chiedere disponibilità al data center però non c'è il nostro tecnico disponibile fuori da queste fasce orarie ottimizzazione e tuning allora come dicevo e ho già detto più volte noi possiamo sempre fare questa attività sul server root come opzione a pagamento nel caso del server managed abbiamo definito questa soluzione come più standard quindi una sorta di tuning viene comunque fatto soprattutto in fase iniziale setup noi forniamo il server in base a quello che deve fare il cliente con determinate configurazioni determinate casistiche è chiaro che poi il cliente in fase iniziale ci potrebbe dire che si aspetta di avere 100 visite al giorno poi magari le visite sono 1000 e quindi alcuni elementi vanno tarati e vanno tunati e questo lo si fa anche nel server managed nel managed è un'ottimizzazione e un tuning molto più fine dove vi farò vedere dopo ci sono dei sistemi di monitoraggio che vengono rilasciati con il sistema managed plus che permettono di vedere molto più nel dettaglio quelle che sono le casistiche e i parametri che vedevano essere ottimizzati e quindi si va a fare un fine tuning più che un'ottimizzazione tuning come nel caso del server managed per quello che riguarda quindi il monitoraggio come vi dicevo la parte root non è compresa e quindi il cliente deve in autonomia andare a predisporre un suo sistema di monitoraggio e sempre compreso nel caso di managed e nel managed plus ma con una piccola differenza cioè in entrambi i casi andiamo a monitorare quello che sono i sistemi base quindi il sistema operativo le porte base del servizio l'80 la 443 piuttosto che una porta personalizzata il fatto che sia attivo la patch il my sequel o quelle che sono la quantità disponibile di spazio disco questi sono elementi che sono sempre disponibili nel monitoraggio quello che cambia nel caso del così come ripristi dei servizi cioè se un server va a monitor e non risponde che sia managed o managed plus il nostro intervento è garantito H24 quindi nel caso di managed e managed plus i nostri sistemisti intervengono H24 365 giorni all'anno nel caso del managed plus c'è un monitoraggio di servizi di servizi estesi quindi è possibile andare ad esempio a definire quelli che possono essere i parametri della soglia ancora di più quello che noi andiamo a differenziare tra il managed e il managed plus sono il supporto proattivo di intervento cioè cos'è che cambia io nel managed vado a impostare una soglia di alert il nostro sistema di monitoraggio è il classico verde, giallo, rosso che scattano in base a quelle che sono soglie che noi andiamo a configurare nel caso del managed plus andando a configurare una sorta di supporto proattivo scatta il giallo a un valore più basso e si va a intervenire evitando quelle che possono essere problematiche che poi vanno a inficiare sul funzionamento del server per cui magari un load troppo alto sul server può essere indice di un malfunzionamento che verrà tra poco perché non è un load che è al 100% ma già all'85% se diventa giallo vuol dire che non è normale per quel server perché mediamente sta sotto quel parametro e quindi magari c'è un sito bucato che sta generando sta facendo più traffico del normale e quindi si va a intervenire in modo proattivo c'è la possibilità anche nel caso del managed plus di andare a definire il monitoraggio di un singolo dominio un singolo dominio più che altro si fa mediamente una pagina di test che il cliente confeziona che va a monitorare tutto lo stack applicativo del suo server un esempio proprio banale se il mio server ha lo stack con web server Apache piuttosto che il mail SQL o quant'altro si fa una pagina web che chiamandola va a fare una query si connette al database va a fare una query sul database fa una insert magari su un database fa una cancellazione di un record e torna indietro risposta ok noi andiamo a testare questa risposta e siamo quindi sicuri che tutto lo stack dell'applicativo del nostro cliente stia funzionando correttamente in più e qui mi ricollego quello che dicevo prima del fine tuning ai servizi managed plus andiamo a configurare un server mooning che cos'è mooning mooning un software open source che serve per andare a monitorare specifici parametri del server e questi vengono anche messi a disposizione del cliente quindi il cliente avrà questa pagina web dove andare a monitorare quelle che sono magari le sessioni al minuto del server piuttosto che il carico del CPU il carico della RAM quanti sono i domini sul server abbiamo la possibilità di personalizzare quelle che sono le richieste anche che un cliente può portare numero di connessioni al database particolare query particolari le connessioni che arrivano da determinati IP e questo è compreso all'interno del canone MNZ Plus quindi questo server mooning viene andato in FNC poi c'è la possibilità di utilizzare uno stimento di reportistica esterno che viene fornito non so se l'avete già visto perché l'ho trattato in un altro webinar il monitor 360 offerto da Plesk dove è possibile configurare all'interno di questa piattaforma il monitoraggio di server piuttosto che di siti web con un aspetto grafico molto accattivante e con la possibilità di andare a inserire n siti con la possibilità di testare sia TTL che raggiungibilità con anche un report sulle SLA del service level agreement sul singolo dominio raggiungibile da più da più siti quindi da Parigi piuttosto che da Bruxelles piuttosto che da Amsterdam o dall'America piuttosto che anche se non mi ricordo male sicuramente l'Inghilterra e penso anche la cinema non ne sono sicuro comunque hai la possibilità di utilizzare questo pannello per avere un'analisi ancora più interessante anche da poter presentare ai propri clienti perché vengono prodotti anche dei report su quelli che sono SLA questa opzione è a pagamento però è assolutamente un prodotto molto interessante anche in questo caso e noi offriamo il collegamento diretto col reparto sistemistico sia che uno abbia server root sia che uno abbia server manager di manager di base ci mancherebbe quindi vuol dire che se voi siete i nostri partner avete la possibilità di parlare di quelli che sono i problemi sul vostro server o quelle che sono le esigenze che avete perché noi possiamo anche affiancarvi in quella che può essere l'analisi per una vostra esigenza con quelli che sono i nostri sistemisti quindi quelli che agiscono e fanno le attività sui nostri server se torniamo su questa pagina qua che nel frattempo invece non è scoperta ma si è aperta nell'ambiente di test quindi ci sta che sia un pochino meno performante io qua ho scelto questo server di esempio dove il servizio di gestione è il root plus quindi nel caso del root plus viene fatta una sorta di estratto conto perché come vi dicevo è previsto all'interno del canone la possibilità di richiedere aggiornamenti del sistema operativo e applicazioni patch e sicurezza 4 di questi interventi piuttosto che interventi di manutenzione estemporanei per un totale di 120 minuti quindi qua ci si aprirà il ticket il cliente dice avendone 4 mi vorrebbe da dire ogni 3 mesi il cliente ci apre la richiesta per favore mi applicate gli ultimi aggiornamenti del pannello del sistema operativo del mail 5 di quello che è noi prendiamo e andiamo a fare questa attività su richiesta del cliente lo stesso vale per gli interventi cioè compreso nel canone io ho 120 minuti nell'anno solare quindi da gennaio a dicembre per effettuare richieste temporanee di attività sul mio server ok io se non mi ricordo ah sì già che ci siamo vi faccio anche vedere di qua visto che l'ho citato prima perché è utedifferenziario da qua dalla scheda del servizio è possibile effettuare direttamente la richiesta di intervento in questo modo quando viene aperta la richiesta di intervento che non è altro che la creazione in automatico di un ticket al nostro sistema viene già riportato qual è il server e quindi evitiamo di dover chiedere qual è il server viene richiesto anche già di firmare la delibera ok con questa spunta è quello che dicevo prima quindi risparmiamo ulteriore tempo perché già andate a dichiarare che autorizzate a noi ad accedere e qua viene effettuata la richiesta è possibile pagare l'attività in modo estemporaneo quindi noi di default chiediamo un'ora poi nel caso in cui ci si renda conto che il problema è più complesso si comunica con il cliente quello che è la problematica e quello che eventualmente potrebbe essere il tempo necessario per la risoluzione ed è possibile andare ad acquistare anche dei pacchetti di assistenza da 4 ore fino a 12 ore oltre a quello di un'ora che è l'assistenza estemporanea chiaramente più il pacchetto ha una consistenza maggiore e più la tariffa sarà della singola ora sarà più bassa un altro elemento che volevo farvi vedere è quello dell'autorizzazione per l'accesso permanente questo è questo qui è la possibilità che viene data chi ha il server root di autorizzare l'accesso a noi con un account specifico quindi qui si dice che si dichiara che per 24 mesi dopo 24 mesi comunque per motivi legali questa delega scade quindi verrà eventualmente riproposta il cliente in questo modo per 24 mesi ci concede l'accesso al server questo cosa succede scatenando procedi si va ad aprire una richiesta di assistenza al nostro pannello ticket il tecnico la prende in carico va ad inserire all'interno del server root un nostro account che normalmente ha codici cliente più il codice della nostra azienda e quello sarà l'account che noi andiamo a utilizzare per fare l'accesso nel caso in cui abbiate la necessità ok io avrei finito vediamo se andiamo a vedere un pochino di domande allora chiudiamo questo allarghiamo un pochino il pannello così allora questi servizi di assistenza che stai descrivendo quali sono i hosting a ruba quali servizi di hosting a ruba si possono applicare allora vediamo se l'ho intesa bene allora i servizi che ho descritto sono applicabili nel caso di Manager e Manager Plus sia a server fisici che a server in cloud cloud intendo sia cloud pubblico cloud pro tipicamente noi facciamo servizi su cloud pro sia su private cloud quindi come dicevo prima nel caso del Manager Plus si applica mediamente a soluzioni più complesse quindi che hanno più layer applicativi parliamo sempre di applicazioni in ambito web quindi che ci sia web server che sia questo IIS piuttosto che Apache o l'Ispeed una parte di front end affiancata magari a un sistema di caching come un memcache un varnish un redis e una parte un server dedicato al db con anche magari la possibilità di mettere un bilanciatore con n front end davanti per carichi allevati nel caso invece del root plus al momento è possibile utilizzare questa soluzione solo su server fisici perché nel caso del server cloud il cliente potrebbe andare in autonomia ad eliminare o creare nuovi server e quindi non abbiamo il controllo completo a differenza di un server fisico dove il cliente deve darci a disdetta ed è monitorato all'interno della nostra internet quello che è l'appartenenza di quel server e quel cliente nel caso del cloud con utenti root non è non è non è così definito il cliente ha proprio pannello può andare in autonomia a crearsi o a eliminare quando vuole i server quindi stiamo ancora studiando come poter applicare questa questa soluzione vediamo se ce ne ho un'altra gli interventi di aggiornamento vengono effettuati automaticamente o periodicamente immagino si riferisca a root plus gli interventi vanno sempre richiesti tramite ticket quindi il cliente ha a disposizione come vi ho fatto vedere da questa finestra un monte interventi e un monte ore deve aprire una richiesta e dire fatemi l'aggiornamento fatemi questo intervento non è un'attività proattiva da parte nostra e quindi è il cliente che deve sempre chiedercela poi vediamo un'altra la gestione del firewall può essere managed sì assolutamente facciamo anche managed della parte firewall vi ricordo come dicevo prima le richieste che possono essere effettuate nell'arco dell'anno e che vengono coperte dal servizio managed o managed plus questo è cosa succede se il SOC rileva un problema allora questo è una domanda assolutamente interessante quando viene alla dashboard del SOC compare un allarme chiaramente l'allarme può essere di diverse entità si va dal banale malware per cui il sistema lo riconosce e a seconda di insomma quelle che sono le regole definite perché prima di prima di attivare le DR c'è una fase di analisi e anche di verifica da parte nostra con il cliente per capire qual è il comportamento dato al cliente questi sistemi si possono configurare per dire semplicemente fammi vedere quello che sta succedendo sul server non bloccare nulla piuttosto che avvisami quando c'è qualcosa che non funziona oppure blocca tipicamente col server manager soprattutto nel caso di malware il file viene messo in quarantena viene aperto da parte del SOC un avviso a noi su un pannello interno di ticket che abbiamo per gestire questo tipo di problematiche e si va quindi poi eventualmente ad avvisare il cliente che c'è stato questo tipo di problematica diverso se l'attacca è più grave quindi nel caso come vi dicevo avendo un EDR la possibilità di analizzare i dati che provengono da più fonti quindi analizza il traffico relativo alle mail il traffico relativo alle connessioni da quale paese arriva la connessione piuttosto che la media delle connessioni su un determinato sito e quindi trova se c'è un'inomalia piuttosto che il modulo IPS per l'antintrusione che va a fermare determinati attacchi o nel caso di attacco ransomware può essere che il SOC interviene per staccare anche il server dalla rete però queste sono tutte regole che vanno definite con il cliente e nel caso del server managed lo mettiamo a disposizione proprio perché giochiamo in casa cioè il server sappiamo noi in gestione sappiamo quali sono gli applicativi e abbiamo un rapporto con il cliente che ci dà la gestione managed tale per cui possiamo definire bene questi parametri questo è la difficoltà più grossa che stiamo incontrando nella fase di analisi per cercare di rendere questo servizio disponibile a tutti quindi anche chi ha un server root a chi ha una propria postazione per assurdo perché quel determinato server non lo sappiamo non conosciamo poi oltre questo c'è l'aspetto relativo alla comunicazione se succede qualche cosa il SOC comunica a noi chiama il reperibile piuttosto che interviene durante il giorno ma ha un riferimento ben chiaro di chi contattare nel caso che succede un evento grave andare a chiamare il cliente è una procedura che va costruita va definita ci sono determinate regole che vanno analizzate i livelli sono disponibili sia per server fisici cloud ho risposto con la domanda prima cos'è monitor 360 allora cos'è monitor 360 monitor 360 che lo trovate anche qua prodotti 360 monitoring è quello strumento che vi dicevo che mette a disposizione Plesk per andare a monitorare server e siti web con la possibilità appunto di inserendo delle sonde di andare a generare dei report monitorare la SLA attivare reportistica per i propri clienti è uno strumento che qui potete trovare alcune informazioni però eventualmente se siete interessati a questo aspetto ci potete contattare scrivere un ticket in modo volendo anche organizzare quello che è un edema sul servizio e non vedo altre domande quindi direi che vi ricordo che la sessione è registrata e che sarà possibile vederla poi in un secondo momento attraverso i canali social e attraverso il nostro pannello se avete altre domande non esistrate a contattarci siamo sempre con questa disposizione vi ringrazio per la disponibilità e vi auguro una buona serata e vi ringrazio